E' cominciata la settimana che porta alla Foggia. Ieri sera negli studi di Contatto Sport il direttore sportivo dell'US Avellino Luigi Condò ha analizzato innanzitutto il pareggio beffa contro la Juve Stabia. Penso che se c'era una squadra che doveva vincere la Avellino noi dobbiamo continuare su questa strada, continuare a lavorare come stiamo facendo, con questa voglia, con questa rabbia. Penso che il campionato sia ancora lungo. Troppe le critiche a Simone Ghidotti, estremo difensore dell'Avellino in occasione del secondo gol di Mignanelli. Il direttore Condò ha voluto però fare chiarezza sul futuro del portiere ex Como. Secondo me andare a colpevolizzare un giocatore è una cosa sbagliata. Noi abbiamo grande fiducia in questo ragazzo sia come uomo che come calciatore e siamo convinti che lui da qui alla fine farà bene come sta facendo fino ad oggi. A proposito di beffa, il direttore Condò è tornato sul mancato arrivo di Ernesto Sarita a Avellino. L'attaccante ex Monopoli ha scelto il benevento. Non è mancata, la stoccata del dirigente Biancoverto. Venerdì scorso siamo stati 4-5 ore per chiudere l'operazione, l'operazione che era ormai chiusa. La verità è che l'Avellino si è affidato a un professionista che per un tornaconto personale ha tradito la fiducia. Infine la presentazione del match di sabato sera allo Zaccheria contro il Foggia. Un Foggia in crisi per il direttore Condò. Un impegno assolutamente da non sottovalutare. Forse non starà vivendo un ottimo momento però noi siamo consapevoli di andare a Foggia e incontrare una partita difficile, una partita tosta con una squadra che vorrà a tutti i costi batterci perché serve per la classifica come serve anche a noi. Quindi sarà una partita difficilissima, sicuramente una delle più difficili che ci potesse capitare.